Smascherato il bluff del governo Draghi sulla pace fiscale. Dal 1 maggio ripartono 35 milioni di cartelle esatoriali. Così su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Altro che ripartenza per famiglie e imprese, già messe in ginocchio da pandemia e chiusure insensate, e in arrivo un vero e proprio salasso. Fratelli d'Italia aveva chiesto al governo, con emendamenti all'ultimo decreto sostegni, di azzerare debiti e tasse per tutte quelle attività che non hanno potuto lavorare per le restrizioni volute da Conte e Draghi. Ma con la sinistra alla guida della maggioranza e del governo, come dimostra anche la conferma del coprifuoco, prevale sempre il livore ideologico e quasi mai il buonsenso, ha concluso Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, in un altro post sul social network, ha attaccato il governo Draghi, scrivendo che dicono di ripristinare la zona gialla, ma vietando il consumo all'interno dei locali, di fatto il governo degli Ammazza Imprese ha ulteriormente inasprito le regole e i divieti.